Due agora non nuove alle posizioni contrapposte. In Germania, Erfurt e Dresda sono nuovamente teatro di opposte ragioni politiche. Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro i gruppi di destra e per porre un argine a eventuali future coalizioni con la FD, Alternative for Deutschland, che si colloca su posizioni estreme tra le forze sovraniste tedesche. L'elezione sorpresa del liberale Thomas Kemmerich in Turinja, favorita dall'appoggio dei partiti conservatori, aveva già alimentato il dissenso con una serie di manifestazioni spontanee in tutta la Germania. Di fronte alle proteste Kemmerich aveva rinunciato al mandato, ma l'accordo elettorale ha provocato un sisma politico con le successive dimissioni della presidente della CDU, il partito di Merkel, Anna Gret Kramp-Karrenbauer. A Dresda i dimostranti si sono mobilitati dopo la marcia dell'estrema destra in occasione del 75esimo anniversario del bombardamento a fuoco della città.